Ho finito il turno con un po' di anticipo e ne approfitto per riposarmi qui nel parco perché c'è ancora un bel sole e per rispondere ad alcune questioni che sono nate in seguito a dei post che ho messo su Instagram e Facebook e quindi se non ci sei lì che mi segui cerca Rivetti Walter mi trovi. Ciao sono Walter Rivetti questo è il mio canale dove parlo appunto di doppiaggio dell'uso della voce e di adattamento dialoghi di queste tematiche così come anche sugli altri social o social ma qui riesco magari a dilungarmi un po' di più come anche sul mio blog www.rivettivalter.com Allora ho messo un post sulle scuse 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 lascia andare le scuse e riuscirai chiaramente a camminare più velocemente. Oltre a molte persone che hanno condiviso che sono d'accordo sul fatto che molto è dipende dall'atteggiamento mentale molte risposte sono state scuse e sì però e sì ma e sì ma però io e però qua e però là. E allora ad un post dove invito a evitare le scuse ci sono state risposte di scuse questo però è davvero molto importante perché fa capire come in realtà sia tutto una questione di mentalità ci sono degli impedimenti veri e concreti ok d'accordo ma c'è anche la possibilità di superarli ci sono degli impedimenti di qualsiasi natura la domanda che ti devi porre è come faccio a superare quell'impedimento come faccio se il posto la scuola gli studi sono molto distanti come faccio se ho una certa età come faccio se la mia voce come faccio se non ho nessuno nella mia famiglia di doppiatori ok. come faccio a questa è la domanda ed è la mentalità più corretta per evitare le scuse sì ma sì ma sì ma dopo tre sì ma hai un problema ho fatto già un video su questo argomento quindi non mi voglio ripetere. questione seconda questione invece sui casting o meglio sulle demo che mi mandate ho fatto un post scherzoso sul sulle cose che mandate ad esempio a me su mad lips una roba del genere un zip allora primo non li mandate non è professionale come un giochino per il cellulare cosa cosa volete fare secondo per favore non mi mandate delle cose c'è una mosca fastidiosa dei provini delle delle vostre demo se non avete completato un percorso un percorso attoriale un percorso di doppiaggio cosa devo dirvi hai una bella voce sì però ti manca questo ti manca quello ti manca quell'altro è abbastanza mi fate perdere tempo finite il vostro percorso e poi beh magari ti mando qualcosa e poi un'altra roba che non capisco allora mi mandi questo non è riferito a oggi è già successo giorni fa mi mandi una tua demo ti faccio delle osservazioni dicendo buono questo buono questo ma qui non va qui non va devi migliorare questo devi migliorare quell'altro e ti secchi mi rispondi dicendo che io non capisco niente che sono poco professionale alla fine che cosa che ho fatto insomma mi attacchi allora non me la mandare non importa capisco la gente fuori di testa ti faccio notare delle cose concrete e oggettive non ti dico ma non faccio come quelli dei talent non mi sei arrivato non devi arrivare da nessuna parte soprattutto nel mio corpo ti dico delle cose oggettive e ti offendi e non dico mi insulti ma comunque reagisci in maniera che non ha alcun senso secondo voi secondo te dovrei far pagare l'ascolto delle demo dei provini che mi mandate potrebbe essere uno scoglio mi dai 5 euro mi dai un cornetto mi dai un caffè e io ti ascolto se vale la pena la tua demo e così almeno si fa una scrematura oppure un'altra cosa non mandare dei video dove doppi il gladiatore dove doppi film famosi dove doppi dei personaggi o dei film dove è chiaro che fai un confronto con la voce più nota prendi fai degli showreel dove non sei noto dove non ti si conosce non si conosce quell'attore che stai doppiando quel film quel telefilm anche ce ne sono tantissime di scene ma poi per capire se uno ha una buona voce oppure no basta basta poco e purtroppo gli showreel sono interessanti in questo periodo dove non si possono fare provini è difficile causa covid eccetera eccetera però rimane sempre in dubbio ma quanto ci ha messo a fare questo pezzettino quest'anello questi due anelli una giornata quattro ore l'ha fatta il volo insomma è difficile comunque sempre valutare un po' di chiarimenti un po' più lunghi sono sei minuti io ti saluto e che devo andare al prossimo turno se no faccio tardi alla prossima ciao un abbraccio